Gabriele Galimberti Buongiorno a tutti, sono Gabriele Galimberti e sono un fotografo. Inizio subito la mia presentazione facendovi vedere quella che è la mia immagine preferita di sempre. No, non è questa, avete sbagliato qualcosa. Questa fotografia è stata scattata nel 1970, più o meno, a Regutino, quindi a pochi chilometri da qua. E questi sono mio nonno, quello in piedi, i miei genitori sono quelli che si baciano. Io sono nato qualche anno dopo e sono cresciuto a Castiglione Ferentino per circa 25 anni. I miei genitori sono, mia mamma è un'insegnante all'elementare, il mio babbo invece è geometra, quindi loro hanno sempre avuto il mito del posto fisso e hanno sempre desiderato per me e mia sorella forse la stessa cosa, quindi si immaginavano che io da grande avrei fatto un lavoro abbastanza sicuro e con un posto fisso. Io in realtà ero già un po' ribelle da giovane, quindi quando mi chiedevano cosa volevo fare da grande io rispondevo lo skater, perché Tony Hawk ce l'aveva fatta, quindi secondo me ce la potevo fare anch'io, oppure il musicista, anche qui avevo una valanga di esempi da portare ai miei, di persone che ce l'avano fatta. E invece questi sogni, più o meno quando avevo 20 anni, si sono un po' affievoliti, perché dopo aver preso il diploma da geometra per seguire le orme del babbo, mi sono trovato dietro una scrivania a disegnare villetta schiera per 8 ore al giorno. E quindi dopo pochi mesi ho sentito subito che quella non era una cosa che volevo fare e allora ho pescato un po' in un'altra delle mie passioni, che oltre allo skate e alla musica avevo quella della fotografia, e un giorno sono tornato a casa dai miei e ho detto io voglio lasciare il lavoro e voglio fare il fotografo. Loro mi hanno subito appoggiato, perché forse si immaginavano che da lì a breve avrei aperto un negozio in paese, avrei fatto il fotografo di matrimoni, di comunioni, quindi di nuovo una cosa abbastanza sicura e fissa. Io in realtà, comunque mi hanno appoggiato e allora mi hanno aiutato ad iscrivermi a una scuola di fotografia a Firenze, che è durata tre anni, e quella è stata l'unica volta in vita mia che ero un bravo studente, quindi mi piaceva veramente quello che stavo studiando, quindi ho avuto dei buoni risultati a scuola e subito dopo questo corso ho iniziato a lavorare, ma non nel negozietto di paese, ma ho iniziato a lavorare per fotografi professionisti di Milano e di Firenze, quindi in quegli anni ho imparato a fotografare prima i gioielli, poi l'arredamento e poi le modelle, perché mi sono buttato un po' sulla moda, quindi visto che avevo poco più di vent'anni, lavorare con le modelle mi piaceva abbastanza, l'ho sempre circondato da belle donne, per un po' di anni ho resistito in quel settore là. Poi è successo qualcosa, alcuni anni dopo, che ha cambiato tutto, perché, non so se lo sapete, ma Castiglione-Forentino, dove vivo e dove ho vissuto quasi per tutta la mia vita, c'è un'università americana e quindi ogni due mesi arrivano centinaia di studenti che popolano il paese. In una di queste ondate di studenti americani ho conosciuto una ragazza texana, ci siamo innamorati e quindi, grazie a lei, per la prima volta in vita mia, qualche mese dopo ero su un aereo da solo che andava in Texas. E in quel momento, insomma, questo primo volo, io ancora me lo ricordo, il primo volo da solo, lontano, è stato subito nato una nuova passione dentro di me, quella del viaggio, ho sentito subito che stavo bene, quindi nei mesi successivi, nell'arco di sei mesi, diciamo, sono andato in Texas quattro volte, quindi ero pendolare avanti e indietro dall'Italia al Texas. E quindi lì ho subito capito che dovevo fare qualcosa per combinare il mio lavoro a questa nuova passione per il viaggio, perché non volevo più farne a meno, non volevo più smettere di viaggiare. E allora la soluzione era abbandonare il mondo della moda e dedicarmi con la fotografia a qualcosa di diverso, quindi ho iniziato in quel momento ad avvicinarmi forse un po' al mondo del giornalismo, al mondo del documentario. E ho iniziato a produrre le prime storie da solo, quindi ho fatto i primi viaggi autoproducendoli, quindi pagando tutta la scamia, e sono andato prima in India, poi in Brasile, ho passato un po' di mesi in questi posti, producendo delle storie che poi, tornando in Italia, cercavo di vendere giornali. Alcune volte andava bene, altre volte no. Però in quei due o tre anni, diciamo, ho iniziato a crearmi una piccola rete di contatti, e quindi un po' il lavoro pian pianino è iniziato ad arrivarmi. Fino a che un giorno un editore svizzero mi ha proposto un lavoro da fare in Cina, quindi per un libro. Quindi mi chiedevano di fare delle fotografie per un libro che sarebbe uscito in contemporanea all'Olimpia dei Cinesi. Il lavoro era super interessante, però il budget era bassissimo. Io comunque volevo farlo, e allora mi dovevo inventare qualcosa per andare in Cina a basso costo e rimanere là due mesi a lavorare. Un amico mi aveva parlato del couchsurfing come una nuova forma di viaggio a basso costo, e quindi io mi sono un po' informato, ho fatto le mie ricerche, ho cercato di capire cosa fosse questo couchsurfing, e ho scoperto cos'era. È un social network, quello che io chiamo il social network dell'ospitalità, che è sostanzialmente come Facebook. Ognuno di noi può iscriversi a avere la propria pagina, questa per esempio è la mia, dove tu ti iscrivi, fai il tuo profilo, metti le tue foto, le tue informazioni, e ti connetti a tutti gli altri couchsurfer che sono iscritti a questo sito, che sono attualmente 9 milioni in tutto il mondo. Ci sono ovunque sparsi, gli unici due posti dove non li potete trovare sono alla Corea del Nord e Cuba, perché lì è vietato fare couchsurfing. E quindi io mi sono iscritto a questa cosa, e ho deciso di viaggiare in Cina, usando questo metodo, che sostanzialmente funziona. Una volta che ti iscrivi, tu puoi andare nella pagina, io in quel momento sono andato nella pagina dei couchsurfing cinesi, cioè di Pechino, ho guardato chi erano, ho chiesto ospitalità, e mi hanno risposto in 17. Quindi io nell'arco di due mesi sono stato ospite di 17 famiglie diverse a Pechino. Questa per esempio è la pagina dei couchsurfing di Arezzo, e sono 1517. Quindi ce ne sono tanti iscritti anche qua. E tutto funziona sulle referenze, quindi c'è una sorta di sicurezza. Una volta che tu sei ospite di qualcuno o ospite di qualcuno, devi poi lasciare nella sua pagina un giudizio, una referenza. Quindi è un sistema abbastanza sicuro, perché se qualcuno si comporta male o fa qualcosa di sbagliato quando è ospite o è ospitante, viene lasciata una referenza negativa e automaticamente quella persona non verrà più né ospitata né invitata. Quindi niente, io sono partito per la Cina e quello che è successo là è stato che la prima volta che ho fatto couchsurfing, cioè la prima volta che ho dormito a casa di qualcuno, ero a casa di uno studente ventenne che condivideva l'appartamento con altri circa 20 studenti e tutti dormivano per terra. Quindi io mi sono messo per terra in questo stanzone con tutti questi studenti e tutti noi condividevamo un bagno, una cucina in condizioni igieniche discutibili. Tre giorni dopo, per fortuna, è tutto cambiato. Sono arrivato a casa di una signora ricchissima in un piano alto di un grattaccello nel centro di Shenzhen e avevo la mia camera con il mio letto matrimoniale, il mio bagno privato con una vasca di domassaggio, questa casa ricchissima, però c'era una cosa buffa, cioè tutta questa casa era, c'erano le sorpresine dell'ovino kinder ovunque, nelle mensole, nei mobili e quindi io ho chiesto alla signora ma com'è che colleziono queste cose? Lei fa, non è che le colleziono, sono la proprietaria della fabbrica che le produce e quindi lì mi è venuta subito l'idea che il couchsurfing era in realtà un social network incredibilmente interessante perché due persone così estreme, estremamente diverse e due estreme della società cinese in realtà avevano qualcosa in comune entrambi iscritti al couchsurfing e entrambi avevano voglia di ospitarmi e quindi lì ho avuto quest'idea di fare un progetto su questo social network e volevo girare il mondo facendo couchsurfing quindi girare il mondo e mai dormire in hotel ma sempre essere ospite di qualcuno. Tornato in Italia ho proposto l'idea ad alcuni giornali con cui già lavoravo e ho avuto fortuna che Repubblica nello specifico il settimanale DD Repubblica ha deciso di sponsorizzarmi e mi ha fatto partire per un giro del mondo durato due anni questa è la mappa di quello che ho fatto in cui in ogni posto ero ospite di una famiglia quindi ho dormito a casa loro tutto questo veniva poi io fotografavo le famiglie che mi ospitavano e nel giornale appariva così una pagina ogni sabato dove veniva pubblicata la foto e una storia che scrivevo per descrivere chi erano i couchsurfing che mi avevano ospitato quella settimana questo per esempio in Australia e questo in Cina a Chongqing e ogni volta cercavo di fotografare queste persone non nel divano dove ho dormito ma in situazioni in cui poi mi davano degli spunti per scrivere anche le loro storie per esempio questa ragazza si chiama Yue questa scritta che ho trovato lungo il fiume lì a Chongqing significa luna splendente mentre lei parlando un giorno mi dice il mio nome significa luna ma io mi sento come il sole che purtroppo qua non splende mai perché c'è sempre questo inquinamento e quindi la storia che poi ho scritto era più legata a una descrizione di questa persona ma anche questo aneddoto di questo racconto che lei mi faceva e quindi da lì sono partito e ho fatto couchsurfing a casa di questi musicisti italandesi che mi hanno portato in giro per Bangkok a concerti tutta la settimana oppure sono finito per Natale a casa di una famiglia messicana quindi quella in primo piano è la ragazza iscritta al couchsurfing però sono stato ospite di tutta la famiglia per tutto il periodo di Natale quindi cene tacchino tequila tutte le sere a cantare la mazzotti in spagnolo tutte le sere oppure in Malesia sono stato ospite a questo ragazzo che in casa quando mi ha detto che poteva ospitarmi ha detto spero non ti dia noia a dormire con gli animali io pensavo avesse dei gatti in realtà in camera con me c'erano nove pitoni e due iguane qui era la mattina dopo che stava accarezzando il pitone e l'iguana mentre guardavo la televisione sono stato a fare surf in Alaska con meno 25 gradi con questo tipo abbastanza pazzo ma che mi ha convinto a buttarmi in acqua oppure questa è la presentatrice del telegiornale nelle Filippine anche lei abbastanza ricca e nota nel suo paese ma iscritta al couchsurfing mi ha aperto casa e ho dormito nel suo divano per una settimana questo è il figlio di una famiglia mormona nello Utah insomma tantissime storie una donna qui alle isole Fiji lei incinta all'ottavo mese e mezzo quindi avrebbe potuto partorire da un momento all'altro mentre ero lì app mi è partita una foto e quelli sono appena passati una coppia in Terandia questo nel nord del Canada un allevatore di cani da slitta quindi anche qui è un'esperienza molto bella perché mi ha portato in giro con la slitta con i cani insomma sono sempre molto molto emozionante e la cosa divertente di questa storia qua è che siccome in questo posto facevano circa meno 47 quel giorno c'era una temperatura gelida in questa casa non c'è acqua corrente perché si ghiaccerebbe nei tubi quindi per fare la doccia dovevo scendere due chilometri a valle al distributore di benzina dove ci sono le docce per il pubblico e il bagno non c'è in casa ma il bagno è quella stanzina accanto verde che è sostanzialmente un buco per terra che scende a tre o quattro metri dove quello che devi fare lo fai lì e io mi lamentavo del freddo e lui invece simpaticamente fa guarda è meglio ora d'inverno perché d'estate ci sono gli orsi quindi meglio il freddo che gli orsi ci sono anche couchsurfer che hanno la regola in casa sono couchsurfer naturisti e nudisti e quindi la regola in casa era no vestiti e io mi sono adeguato alla regola ho dormito là questo di nuovo in Cina l'ho fotografato così perché lui mi diceva che la Cina è l'unico paese che sta correndo verso il futuro e quindi ho deciso di fotografarlo mentre corre una coppia a Malta conosciuti su internet e poi sposati a Malta quindi le antenne simboleggiano un po' questa loro unione è avvenuta su internet lui è uno studente della Bible University in Botswana e sta studiando per diventare prete carismatico insomma tante storie La Paz in Bolivia questo è un attore a Bollywood questa è a Panama una ragazza anche questa ricchissima aveva vari Porsche parcheggiati nel giardino un dottore in Zambia in Albania questo è uno dei couchsurfer più isolati del mondo in mezzo al Saharan in Algeria però è una guida del deserto quindi ha una piccola chiavetta USB con cui si connette l'internet si è iscritto al couchsurfing e io sono stato suo ospite questo ad Haiti e questa l'ho scelta come ultima foto di questa selezione del couchsurfing perché questa è stata l'ultima tappa del mio viaggio e casualmente poi con questa ragazza ci stiamo innamorati ho avuto una storia di due anni quindi il couchsurfing oltre ad avermi dato un lavoro e un progetto a un certo punto mi ha dato anche un po' un amore e in quegli anni che giravo il mondo poi comunque tenevo anche sempre le antenne alzate per vedere altre storie che mi stavano intorno quindi in quel periodo tutti i miei amici stavano avendo figli e allora in qualche modo ero sempre circondato da bambini ogni volta che erano con i miei amici e ho iniziato a interessarmi un po' al mondo dei bambini e ho deciso di fare un progetto dedicato a loro quindi girando il mondo ho fotografato bambini ovunque andassi con i loro giochi preferiti sono tutti bambini tra i tre e i cinque anni e io ho chiesto a loro fatemi vedere quali sono i vostri giochi quindi li ho fotografati questo per esempio in Costa Rica questa le Filippine in Australia questa è una delle prime foto che ho fatto in realtà questa è Castiglione Fiorentino in Val di Chiana ama giocare con le mucche del nonno e quindi mi sembra bellino fotografarla con tutti gli attrezzi della stalla questo è Zanzibar questo invece è un bambino che sogna di fare il motociclista a Bangkok questo in Zambia di nuovo un posto dove c'è un'organizzazione che porta che è un laboratorio oculistico quindi è un posto dove i giochi non ci sono ma ci sono tantissimi occhiali e quindi giocano con gli occhiali in Ucraina vuol fare il poliziotto forse il ladro non si sa in Cina questo in Messico questo di nuovo negli Stati Uniti vuol fare il pilota perché è il babbo pilota questo in Kenya e tutte queste fotografie sono 54 in 54 paesi diversi sono uscite come sotto forma di libro sei mesi fa con un editore americano con cui sto tuttora lavorando a un altro progetto e in tutti questi viaggi i miei genitori che prima all'inizio erano sempre un po' preoccupati ogni volta che partivo perché appunto loro si aspettavano un lavoro molto più tranquillo invece inizio a girare il mondo all'inizio erano sempre molto preoccupati ma ora hanno imparato a stare tranquilli ogni volta che parto una persona invece che non è mai tranquilla quando parto è mia nonna mia nonna però non è preoccupata per i miei viaggi perché spesso non sa neanche dove sto andando se dico che vado in Malawi lei probabilmente pensa che sia dietro Siena non ha molta idea di dove è in Malawi però lei è sempre preoccupata del cibo mi dice ma dove vai ma mangi bene ma ti hanno preparato da mangiare stai qui ti cucino io perché te ne vai e allora ho deciso un giorno di fare un progetto anche qui sempre globale dedicato a mia nonna e quindi ho iniziato a fotografare nonne in tutto il mondo mi sono fatto ospitare a casa di nonne e ho chiesto a loro cucinatemi qualcosa perché sennò mia nonna è preoccupata e quindi ho fotografato nonne di tutto il mondo con le loro ricette preferite e di ognuna di loro ho scritto una storia e la ricetta quindi questo per esempio è in Thailandia questo è in Etiopia un piatto piccantissimo in Brasile fagioli carne di maiale anche quando ci sono 50 gradi in Kenya questo era un po' a rischio dolori di stomaco ma fortunatamente mi è andata bene questo alle Fiji pesce freschissimo appena pescato era eccezionale con una salsina di cocco buonissima lo vorrei ora in Bolivia e ad Haiti anche questo ero lì in un periodo in cui c'era un'epidemia di colera molto alta quindi insomma anche questo era un piatto molto a rischio ma per fortuna anche in questo caso mi è andata bene in Malawi appunto che non è dietro Siena ma è in Malawi e mi hanno preparato un bel piatto di baccarozzi non era veramente gustoso però per essere educato qualcuno l'ho dovuto mangiare questo in Turchia questo piccantissimo in India come più o meno è piccante il calendario che lei si tiene in casa questo è una buonissima una iguana delle Cayman cucinata però con salsa honduregna e un po' mi ha disgustato perché era l'idea che mi disgustava di questo animale però devo dire che il sapore non era poi così male era quasi pollo e questa invece è mia mamma che mentre viaggiavo è diventata nonna grazie non a me ma a mia sorella e quindi l'ho inserita nel progetto Last Minute e tutte queste fotografie sono uscite venti giorni fa sul libro pubblicato in inglese francese e cinese da un editore americano che raccoglie 60 ricette di 60 nonne in tutto il mondo quindi questo è quello che ho fatto negli ultimi 4-5 anni tuttora sto continuando a viaggiare a girare il mondo sono tornato ieri da Berlino dopo un viaggio di tre mesi in realtà che durava che è partito dai Caraibi finito in Canada e poi a Berlino e riparto fra 20 giorni per l'Asia quindi sarò tre mesi tra Cina, Corea Tailandia e Giappone tuttora continuo a viaggiare con il couchsurfing perché oltre a essere un modo economico per viaggiare ma è sicuramente il metodo migliore per entrare veramente in contatto con le culture locali perché non sono in hotel da solo a guardare la televisione ma sono con gente locale che mi aiuta che mi ospita che mi dà consigli su cosa fare dove trovare le cose che devo fotografare e quindi insomma consiglio a tutti voi se volete di provare il couchsurfing e iscrivermi grazie